Il sistema Lane Assist di 500X è un sistema studiato per garantire il mantenimento della vettura all'interno della corsia di marcia. Funziona grazie ad una telecamera sul parabrezza che rileva le linee continue o tratteggiate che delimitano la corsia di percorrenze. Quando oltrepassi involontariamente la linea di corsia, quindi con la freccia non inserita, il sistema Lane Assist ti avverte con una coppia applicata al volante e con una spia sul quadro strumenti, segnalando così la necessità di intervenire per riportare la vettura entro i limiti della corsia. Puoi abilitare o disabilitare il sistema Lane Assist mediante il pulsante sulla leva degli indicatori di direzione a sinistra del volante. Infine, ad ogni avviamento del motore, il sistema mantiene lo stato attivato o disattivato, come rimasto al precedente arresto. Una volta inserito, il sistema diventa attivo se... il guidatore mantiene almeno una mano sul volante. La velocità vettura è compresa tra 60 e 180 km orari. Una delle linee di delimitazione della corsia è perfettamente visibile. Le condizioni di visibilità sono adeguate. La strada è a rettilinea o presenta curve ad ampio raggio. L'indicatore di direzione non risulta attivato. Maggiore sicurezza anche in caso di distrazione e involontario superamento della linea di corsia. Aiuta il guidatore ad evitare il pericolo di uscire di corsia.